Massima precauzione e prudenza a evitare il più possibile assembramenti durante le vacanze di Natale. Questo l'invito del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha anche chiarito che entro giovedì, sulla base dei dati epidemiologici raccolti nelle prossime ore, si valuteranno le eventuali nuove misure. In Italia i numeri della variante Omicron sono in crescita, anche se ancora migliori rispetto ad altri paesi. A una crescita significativa, ha sottolineato il Ministro, rischia di mettere in difficoltà le strutture sanitarie. Da qui l'invito a fare la terza dose e usare le mascherine. Queste armi sono uno scudo significativo alla variante Omicron. Omicron.